Per farvi vedere come anche questa roba qui ha questo privilegio che la boccola piccola posso mettere dentro i legni piccoli se volevi vedere un po' di poco magari se lo facciamo accendere su anche un po' non ci fa problemi ma adesso arriva la marmita e meglio cioè questo è la roba qui vedi sembra qualcosa ma è quella hai la piacere di vedere un po' di pochetto no? Mh mh Adesso prendiamo più dei papi e se tu gli metto un po' un po' un po' un po' un po' un po' anche perché la donna ha un po' questo, questo poterci stare di solito inginocchiata ecco così a far da mangiare avevo dovuto fare un forno basso dove tutto il calore rimane dentro perché c'è una camera di terra refrattaria e con una griglia che metto fuori l'accendere nessuna dispersione di calore e qui poi si forma un po' di fumo, questo fumo qui dopo con un tubo viene portato fuori dall'angolo della casa dove lei cucina perché ha bisogno di avere e di avere le cose la un po' un po' adeguate, è una cosa che sembra primitiva e tutti non ci danno per essere, tutti non fanno le mie come va a portare il caramelo? si e poi da parte andate il via le...